Primo spettacolo Ci abbiamo messo tre anni per farlo quindi è stato un'alba molto molto lunga e sudata e studiata non dico a tavolino però i proposti sono proprio quelli di sentirci di nuovo per la terza volta liberi e sai quando sei incatenato da dei sogni che magari non ti lasciano far prendere il volo questo per noi è il momento in cui infatti siamo emozionatissimi perché sono andato prima dalla Feltrinelli a comprarlo e come ricordiamoci i nostri anni 90 quando si andava nei negozi di dischi a comprare i dischi anche perché in Roma solo Feltrinelli ci è rimasto se uno vuole comprare un disco ci sono pochi punti veramente dove è possibile acquistare l'album quindi veramente ci sentiamo liberi e a proposito di suonare live di fare tante cose belle che poi riguardano questo lavoro da un punto di vista musicale ritroviamo un po' il marchio di Fabbrica delle Mani un pop rock in alcuni casi anche molto tirato però è un disco dove avete introdotto una certa varietà c'è l'elettronica, c'è il rock, ci sono le ballad è stata proprio una scelta oppure è stata una sorta di cosa che è accaduta poi in realtà durante involontaria che è uscita fuori durante le registrazioni del disco? ci siamo messi tantissimo sotto a studiare proprio singolarmente canzone per canzone nella costruzione gli altri album sono stati molto istintivi soprattutto il primo il secondo un po' non dico né carne né pesce però era ancora legato al primo e voleva tendere a qualche cosa che poi non era del tutto definito questo è stato studiato canzone per canzone abbiamo soppesato quelle che erano le chitarre con la musica elettronica con i groove di batteria e basso con la voce insieme quindi siamo stati un po' l'abbiamo partorito in maniera un po' più pensata rispetto ai precedenti non che non sia istintivo anzi suona quasi come se fosse un live e questo ci piace tantissimo benissimo anzi suona